Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video! Qui, vi sembrate che siamo in una casa costruita da noi? Mi dispiace, ma siamo dentro un asteroide! E questa, piano piano, diventerà la nostra casa su Minecraft, sullo spazio! No, 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 no! Incominciamo! Come la faremo, questa bella casa? La faremo, ovviamente, con cose lunari, quindi audio no, infatti, la faremo con cose lunari! Kennedy decidi di trasformare questo posto in una stazione spaziale! Yes! Però, non mi avete mai chiesti, è inolloso distruggere, vero Michele? Sì! Belloso! Quindi, oggi abbiamo la mod perfetta per voi ragazzi! Basta cliccare questo tasto, prendere l'escavatrice, lo sapevi Michele? Per niente! Puoi prendere questo, ecco, adesso me la devo ricordare un po', pompa, poi me la voglio provare dopo! Allora, dov'è, 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 dov'è? Ah, ecco, la leva, il carbone, carbone, no, carbone, eccolo qua! Uno stack, uno stack, uno stack, uno stack, uno stack, per ora va bene! Poi prendiamoci la, come si chiama Michele, già la conosci? Cosa? Ecco, è bom, la leva, l, e, leva, leva, al posto della pad, ok! Voi volete costruire, vero? Gli assi? Poi Poi questo Ecco Ci credi o no? Non ci credi, vero Michele? Non lo so neanche Abbiamo una leva Possiamo mettere Tubo Tubo di C'è anche il fluido, dopo lo proviamo Chest Baule, baule Non metterla lì, mettila più vicino Più lento Allora, iniziamo un po' a distruggere Lavora Lavora Non può distruggere un po' più vicino? Aspetta 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 Prova a mettere un tubo Sai dove? Sopra Sopra No, ho capito dove metterlo Aspetta Aspetta Per consigliare un bel trucchetto Questo sarebbe uno di quelli Dai, da via Provate Ma se vuoi come fare Ecco Però ti studio tutto in nostra casa No, perché praticamente Praticamente Aspetta Aspetta Tu fai quello che hai fatto E poi ti dico io Cosa fare Prima tu rifallo Va bene, lo rifaccio Ma mi hai fatto cambiare idea E poi ti dico io Ecco Però distrugge tutto Tranquillo Tranquillo Rifai quello che hai fatto Però mettendo sopra Quella macchina Quella macchina lì Che ha appena piazzato Un tubo Con Che lo dirigi Dove vuoi distruggere Capito? Ti dico che non va Guarda Non entra neanche Michele Prova a fare il trucchetto Tipo mettere Le torce sugli altri oggetti Ti dico già Che in questa modo Non va Ti dico Michele Quindi Prova Vedi Allora Prova a metterci sopra Una pompa E qual è la pompa? La pompa Quella lì Ah questo parlo Questa Ah un motore Questo è un motore Tu metterlo so Ma non è Però allora Anzi Cerca la pompa Cerca la pompa No 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 Sono impegnato adesso Eh Allora muori di fame Va bene Morirò E pietro Niente Non mi ha spavangere Non ho più fame Ancora Non ho fatto un tubo Ah Questa ti vengo Questa ti vengo Tu vedi a dormire E ora Prova a metterci Una Ora prova a metterci Un tubo sopra Sopra Il motore E diricilo dove vuoi distruggere Quale parte vuoi distruggere Se è più bassa o più alta Questa parte Io ho diseretto Ho diseretto Adesso mi chiede Tu metti il carbone dentro Il coso no Metti il carbone dentro Non devo fare così Ecco Così almeno Prende Carbone 64 E ora Leva Guarda Vedi Ma che Guarda Ha ragione Bravo Michele Buono 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 Dì chi è che abbaia Ora qui E Abba Sta Abba 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 Cagnolina Piccola Piccola Beh Si chiama piccola Non è Piccola Non vi confondete Ma è meglio che costruisco così Vero Michele Eh già Poi sulla terra Ma poi Sulla terra Vi facciamo vedere Eh già Vi faremo vedere Qui faremo qua Faremo tipo un kit Del laboratorio Tutti i raggi Vero Sì Che ne dici Che ne dici Beh Ora noi Finiamo la puntata Perché Se no diventa Troppo lunga Però Alla prossima puntata